Sinergia 2019 è l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi, sono in compagnia di Nicola Bisani, fondatore e CEO di Colori. Nicola ciao, un commento a caldo su questo evento impegnativo oggi. Ma guarda i miei complimenti è la prima volta che partecipo a Sinergie e devo dire innanzitutto mi ha colpito tantissimo l'eterogeneità e la completezza del panorama. Oggi abbiamo potuto veramente avere tanti stimoli a diversi livelli da aziende piccole, aziende grandi, start up e poi è molto interessante perché un posto che coagula i player che si stanno impegnando di più sull'innovazione in Italia è una cosa molto rilevante, una cosa molto importante per noi, guardiamo con molta attenzione a questo genere di iniziative. Grazie, una domanda su Colori che è una big data company se vogliamo definirla così, che analizza il contesto in cui anche le case si trovano. Come può essere d'aiuto al settore immobiliare? In un minuto? Sempre di più lo sarà perché sempre di più sarà necessario trovare e dare informazioni sul contesto e capire quanto il contesto partecipa al valore di un immobile nella formazione del valore ma anche nel valore percepito e fare questo con l'evidenza dei dati e senza perdere troppo tempo in estenuanti ricerche costose ed estenuanti. Allora Colori si raggiunge sul web con? Nel sito www.colori.com Grazie mille Nicola, alla prossima, ciao! Alla prossima!